Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Lamber e oggi siamo qui su InSoundMind In questo video continueremo la nostra esplorazione dell'Omamart per scoprire che cosa effettivamente è successo a Virginia Ovviamente non mancheranno combattimenti, esplorazioni ed enigmi, comunque non mi dilungo e spero che il video vi piaccia Non io che ho appena scoperto dopo aver editato il primo episodio che posso utilizzare pure la soundtrack del gioco Quindi potrò ascoltare le canzoni dei grandiosi dei Living Tombstone, è un miracolo c'è su in terra grazie Allorissima, nello scorso episodio ci eravamo lasciati proprio qui, sì avevo proprio anche preso questo telefono su Eh già, proprio nessun segnale, quindi adesso controlliamo Ok, sta cosa qui mi fa male, ma è una stampante quella che sta facendo tutto questo casino Vabbè dovremmo trovare un modo per riuscire a passare, ma a quanto pare non è in questa stanza Ricordiamo che qui in giro c'è la ragazza fantasma, eh Quindi dovremmo stare attenti E ho visto appena, sbaglio, ho visto appena qualcuno camminare per di là Mmm, non, non mi piace la situazione, eh Ma qua è tutto in cortocircuito, forse dovremmo togliere l'energia elettrica Quel maniaco del controllo probabilmente mi sta guardando scrivere al suo ufficio proprio ora Forse i suoi impiegati precedenti hanno rubato qualcosa, ma noi non siamo così, vero? Dave Quanto pare erano sorvegliati da qualcuno Ok E anche da qui non si passa, beh, aia, no, non si passa Allora però, i suoni brutti te li tieni per te, ok? Ok Dimmi che è ok Eh, vabbè, si controlla per di qua, suppongo Il gioco ha salvato, credo, e mi ha tirato una mezza laggatina Perché quando sti qui vanno in giro c'è la musichetta Toons e Toons? Non mi ha visto, beh? Però che figo Mi sa che questa musica è stata fatta da The Living Thompson, ok Allora, credo che dobbiamo passare e andare da qualche parte per di là Ma ovviamente c'è lui Mi ha visto? Sì, mi ha visto, mi ha visto E come se mi ha visto? È scomparso Ok, se ti allontani troppo Scompare, ok Buono a sapersi Il problema è che io devo sempre passare per di qua E non so come Allora, vediamo di non intossicarci troppo con questa roba qui E vediamo che cosa possiamo trovare qui in giro Allora, lascio una porta Ma intanto controllerei cosa c'è per di qua Grazie Eh, mi servirebbe della vita in realtà David, sei scemo Hai dimenticato ancora di timbrare il cartellino Sei davvero così stupido? Te l'ho infilato nell'armadetto Di nuovo, Inez Eh, ci serve una carta pure Sta zona poi è enorme Io non so dove trovare tutti gli oggetti Eh Ehm, suppongo che devo spegnere alcune zone Forse per la corrente elettrica Che non mi permetteva di passare, beh? E infatti Uffici Stanza del manager Ingresso In teoria dobbiamo solamente disattivare gli uffici E la stanza del manager Giusto? In realtà non lo so Boh, ho provato a disattivare questi due Adesso vado a controllare Soprattutto perché non mi ricordo Come si chiamino Eh, le robe Tra l'altro Stanza del compressore Non è che se disattivo anche questa Per caso poi posso entrare Stanza del compressore No, è sempre spenta Mmm, vabbè Allora quindi provo a tornare indietro Anche per controllare come si chiamassero le stanze Eh, sala del personale Ok, quindi adesso Dovrò anche tornare indietro Comunque qui dovrei aver disattivato Beh Ne? Che è successo? Spero niente di cattivo E ciao Resistami Non aumenta la tua resistenza ogni tre pillole Ok Trovarle tutte le pillole Eh Ok, i manichini sono alquanto speciali E compaiono e scompaiono In giro per il luogo Mmm Roba alquanto strana E qui c'è l'esterno Sì, molte Scusa Scusa Raga, mi so cagato Madonna se mi so cagato Vai a farti faxare Credo che sia tipo qualche sorta di insulto Raga, ma io Orco 2 C'è lo vedo camminarmi Addosso Se non me l'aspettavo Mi son cagato Dio Madonna Ma te ne devi andare a fan Eh Sì Sì Allora Fammi vedere Sala dello staff Mi sembra che fosse la roba dove deve andare Quindi tira questo qui lo posso riattivare Anche questo Tanto ormai Devo disattivare questo Ok Ah E questa qui si è attivata la C Ah Forse si possono attivare soltanto alcuni E non tutti Cioè un po' alla volta Credo Tipo ne possono rimanere soltanto 3 attivi Mi sa Beh No Non ho capito perché adesso alcuni si attivano E altri no Comunque Sala dello staff dovrebbe essere Dovrebbe rimanere spenta E in teore dovrebbe andare bene così Qua adesso Funziona Però ancora non abbiamo la carta E la dovremmo trovare da qualche parte Comunque credo che quello che abbiamo appena visto E che tra l'altro è sulla copertina del gioco Fosse Quello che ci vuole morti Anche se non so chi sia Ma ci vuole morti Telefono Non dice niente Il messaggio invece Ma almeno c'è qualcuno Non credo Oh Riesci a credere a tutta questa storia Ah ma è la Ok si è il messaggio dove ero prima Quindi posso semplicemente passare qui Spogliatoio C'è qualche manichino sexy qui dentro Eh Più 5 d'HP Bene Perlomeno mi curo un pochettino Che ho pochissima vita Ma davvero Troppo poca Grazie Sei proiettili Eh Ho parlato di Ha parlato di un ragazzo L'ho visto al telegiornale della sera Ha detto È sempre stato un po' pazza Ma non sapevamo fino a che punto Credo che stiano parlando di Victoria Eh Porco Dio No 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 Raga Mi sono Allora i manichini a quanto pare Non sono cattivi Però mi hanno fatto Mi hanno fatto gagare L'avete sentito l'urlo Beh Chiava dell'armadietto Grazie La prossima volta Avvertimi che sei dietro di me È schifoso Ah Ma Ma veramente Siete gentilissimi Guarda Se non mi avessi fatto cagare in mano Sarebbe andato anche meglio Cartellino Qualcuno in ritardo Vabbè sì È il cartellino Che ci servirà Per 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 la stanza Per di là Ma quanta caga Quel manichino Orco Due Gioco Ma la devi smer Tre Due So due Andate nell'altra Senza fare All'amore Per favore Lasciatemi in pace a me No La domandina Ciao Come va Ah Allagato No No Come funzionate voi Ok Avranno un tot di vita E vabbè Io già sto usando Tutti i proiettili Lasciano materiali Quando li ha amati Li abbiamo amato tutti Aia 10 hp Ok danno vita Ok Ok Ma ci vogliono un bel po' di proiettili Per ammazzarli Eh Eh Tra l'altro Ho laggato quando ho sparato Mi sa che il mio computer Sta iniziando a fare un po' cilecca Un successone Guarda Nemmeno troppo Mi so cagato Stanza del compressore La devi smettere però Capite che mi volete aiutare Ma no Ma non così Bro Che cazzo indichi Perdi qua Devo salire qui sopra Forse Allora vediamo C'è in qualche Ah Ma C'è ma mi aiuta un casino Ma grazie Ma perché sono così gentili Bro Ma veramente Grazie Cioè sono gentili Ma ti fanno cagare Eh mi sembra un buon Un buon scambio Eh batteria Devo riuscire a romperlo Con qualcosa Devo Ancora devo capire Con che cosa romperlo Grazie bro Eh Dopo mi aiuterai di nuovo Ok Min Madonna Se non mi facessero cagare in mano Sti manichini sarebbero i più gentili del mondo Eh Ok Cioè Tutto il tempo mi fa cagare Ok Qui non si può aprire È bloccata all'altro lato Vediamo da questo lato Tra l'altro c'era ancora la tizia Eh Degli specchi Che dovevamo Farla scontrare Contro ancora tre specchi Ma non so Dove trovarli Quegli altri tre specchi E qui l'ufficio del manager Ancora non lo possiamo nemmeno aprire Adesso voglio vedere una roba Per prendere due piccioni con una fa Vogliamo combinare la vendita Della nostra nuova collezione di cartoline Con la nostra moneta Oma Marta appena coniata Vabbè Comunque io da qui Dovevo prendere delle monete Probabilmente E per farlo Dovevo mettere tipo Il valore di qualcosa Di 4 dollari Qui di 5 dollari E robe così Credo 2 dollari e 50 Il problema è trovare Sti oggetti Eh già Tipo questo Cartolina Oma Marta L'etichetta dice 2 euro Cioè 2 2 dollari C'è qualcosa che costa 2 dollari 3,99 2,50 Ok dobbiamo trovare vari oggetti In questa parte del negozio Mi sa sperando che non ci sia La tizia fantasma C'è la tizia fantasma E la vedo pure E' per di là Ok dobbiamo semplicemente evitarla Mentre cerchiamo gli oggetti Per di qua Tra l'altro c'è qualcosa Con cui mi possa Curare Qui 9 Ok Ogni tanto ci sono robe Che possono fare rumori Il che non è una cosa buona Ok qui c'è uno specchio rotto Però E faccio rumore Non devo fare rumore Quando c'è lei qui in giro Ok Ok Devo trovare gli oggetti in giro Per gli scaffali No Non ti ho vista Vaffanculo Eh Non so come seminarle In realtà Sa tizia Eh Dato che non so nemmeno Dove sono gli specchi No Non mi ucciderai Fai schifo Fai schifo Fai schifo Fai schifo Fai schifo Via 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 Dobbiamo scappare In teoria se corro Nell'ala Ovest non mi dovrebbe seguire Mi nascondo Nell'ala est comunque Non era quella ovest Questa E abbiamo già Un totale di 3 dollari Tipo dimmi che c'è qualcosa Che posso fare con 3 dollari Ne abbiamo 1,2,2 E 2,50 3,99 Ok Ancora non abbiamo Il necessario Lo dobbiamo continuare a cercare Allora Manichini Dato che sembra che Non siano così cattivi Mi potranno aiutare In qualche modo In questa zona 9 Eh Eh Brutta situazione Veramente molto brutta No I rumori no Eh Eh si lo so Boom Taglia anche questo Basta fare rumore Che io già mi cago Un altro fogliettino 50 centesimi Ok Già uno lo possiamo Prendere Però non mi spuntare Davanti Brutta bastarda Adesso in teoria Dovremmo poter fare La roba da 2,50 Che dovrebbe essere Questa qui Quindi mettiamo tipo qui Eh Quella da 2 Che in teoria È questa qui No Ah ok Ah ok Dobbiamo passare Più di una volta Una moneta con sopra Il logo di Omamart Ah quindi forse Posso passare Più e più volte Quindi tipo Qui devo passare Eh Due volte Quella dell'Omamart Che vale 2 E una volta Quella da Punto Icaro Sì Funziona Funziona Ok Il problema sarà Trovare la roba Per i 3 3 dollari e 99 Dato che non li abbiamo E qui in teoria È solamente 4 Tac E abbiamo già Tre monetine Che in teoria So dove utilizzare Beh Allora Una Ah No ma perché I proiettili A me mi serve vita Una la dovevamo Utilizzare Per Di qua Mi sembra Ah è una pure Nel carrello Mi sa Vediamo Ok Funziona Sposta indietro Per favore E in teoria Adesso posso prendere Vitalall Ok Questo qui era secondario Mannaggia a me Poi per di qua Se non spunta La signorina Molto carina Dovevamo andare Qui Dove c'era la roba Per le foto E mettere questo Questo qui Che mi dà Buongiorno Fotina È venuta bene Vero Che mi dà Look Look behind you Ok Non c'era un mostro E anche questo qui Era una roba secondaria Per delle pillole Figa Ma che ansia Eh vabbè Tutto quanto È solo Per farmi Cagare Comunque Manichini A quanto pare Si muovono in giro Ma non sono Cattivi Credo che la signorina Mi sia spuntata Dietro Tra l'altro Devo capire anche I punti dove Faccio rumore Per evitare Di attirarla E corsia Cibo Direi dovremmo Entrare anche Di lì Prima o poi Qui dentro C'è il fusibile Ok Il problema È entrare Qui dentro E qui c'è anche La roba Di elettronica Ma anche qui Non so come Arrivarci Attraverso la corsia Giocattoli È un bel problema Sta situazione Allora Vediamo Forse faccio Un po' il giro Evitando di fare Troppi rumori Ok Vediamo di andare Per di qua Si può entrare Da qui Da qualche parte No Ma qualcuno Mi deve spiegare Come continuare In questo gioco Vitaral Ok Qui in cucina C'era della Vitaral Eh Però Ancora Non ho trovato Niente Che mi possa Essere utile Scusami Posso farlo Con questo Orco 2 Ma perché Non me lo dicono Prima Che posso Spaccarli Con il robo Vabbè Va bene Va bene Perlomeno Adesso lo sappiamo Eh C'è nessuno Qui Bisognava pulirli Sti condotti Madonna Ti spacco tutto Ti spacco tutto Ok Questo qui Non lo posso spaccare Eh Bene Forse però Questo qui Si Grandioso Topini State State Buoni Raga Ci ho appena pensato Siamo dei condotti Se io mi ritrovo qualcuno Che mi segue Robbe varie Io Credo che potrei morire L'infarto qui Seduta stante Allora Vediamo Vediamo Eh Qui devo Sempre spaccare Dietro ancora Non c'ho nessuno Per fortuna E in teoria Qui posso scendere Ok Ok Raggiungi lo specchio Nella corsia di elettronica Eh Posso vedere anche robe Attraverso lo specchio O sbaglio Ci sono aria In cui Vengo visto Ah Perché ci sono Delle telecamere Va bene Va bene E comunque Ancora però Dobbiamo Posso spaccarlo Anche questo Sempre con il pezzo Di vetro Ma perché Io le cose Non le scopro prima Vabbè Comunque Qui in teoria Non dobbiamo Far molto In teoria Dobbiamo portare La tizia A scontrarsi Contro lo specchio Grazie per la vita Grazie mille Sbaglio Osta televisione Stava funzionando Per mezzo secondo Sass Molto sus La situazione Vediamo intanto Cosa posso trovare Per di qua Batterie Giorgio Finisci di disimballare E disponi Ordinatamente Tutte le nuove tv Shinitsu Vedi Che non succeda Niente Alla nuova Shinitsu XXL E' il nostro Fiore D'occhiello Puoi accendere Tutto con l'interruttore Vicino alla porta Prima Assicurati Che riceva Corrente Ok Allora Quindi probabilmente Forse dobbiamo Mandare la corrente Qui Però Per ora Questo qui Non è il problema Devo fare in modo Che non succeda Niente a questo Non lo so In realtà Per accenderle Bisogna Si può fare Tutto con Un pulsante Che non ho capito Dove è Forse da queste parti Adesso controlliamo E vediamo Che cosa posso trovare Per di qua Batterie Meno male Che ho scoperto Come arrivare In questa zona E mi sto Refullando Di materiali Ok Qui serve Ancora il fusibile Che avevamo visto Nell'altra stanza Lo dovremmo andare A prendere No Forse era qui Ecco qui Il fusibile Grandioso E ok Ovviamente Ah Mi sa che questo qui È il pulsante Per Eh La tv Per le tv E quindi Adesso Per accenderlo Dobbiamo andare A mettere Il fusibile Qui Bene Ok Adesso Torniamo Indietro E in teoria Posso accendere Il tutto Non ha funzionato Sta funzionando Bene Sembra Perché è pieno Di occhi Ah Posso decidere Dove guardano Dove devono Guardare Tipo Non ho capito Tutti Tutti in quella direzione Ah si Mi sa che Forse è veramente così Essere giudicato Osservata Guardata Erano queste le cose Di cui cercava Così disperatamente Di scappare Aveva sempre gli occhi Di tutti puntati addosso Non è il fantasma di vittoria Quello che era qui Vero Non credo Ok mi sa che Dobbiamo mandare Tutte Tutti gli occhi Verso quella televisione Beh Credo Mi sa di si Mi sa che è veramente così Dimmi che Ce l'ho azzeccato subito Si mi sa che E' così Proprio tanto Tantissimo Tutti a guardare il televisore Dai eh Si infatti si sta Continuando a Comprimere Cioè Sembra costipata La tizia Tutto ok Ehm Che sta succedendo Ehm Tizia come va Specchio 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 Anche tu sei un'anima spezzata Non lo so Guarda Non mi fare queste domande Che io non so proprio Niente E ora che è successo Il casino qui Ah Possiamo attraversare il tutto Quindi dobbiamo andare a riprendere Il fusibile Andiamo Andiamo subito E ce lo riprendiamo Che poi lo dovremmo portare Anche dall'altra parte Per aprire la sala La zona del cibo Ok Non per di qua Grazie Comunque mi sorprende tantissimo Il fatto che io Abbia Sia riuscito a Capire subito Che dovevo mandare Gli occhi tutti quanti Nella stessa direzione Spacca questo Così ci abbiamo Waypoint Staff La maggior parte dei giocattoli Sono andati persino Nell'incidente Terrò quest'aria chiusa E coperta Finché non arriverà La nuova collezione Non entrate Al momento è usata Come magazzino Ci sono scatole non aperte E uno specchio Anderson E poi sinceramente È inquietante Ok Mi sa che dovremmo entrare In questa zona Mamma cucinava Ora è nel congelatore Ho messo papà Nella zona di carico Prima dormiamo vicino Al cammino A tutte le ore Avevi coraggio In soffitta Fratellino So che ora ti nascondi Nel magazzino Raga ma che poi Si è inquietante Io? Oh io stavo bene Poi Bam Il fatto è avvenuto Ora sono senza vita Un cattivo rifiuto Ah devo mettere Tutti quanti In un luogo specifico Devo trovare Delle bamboline Probabilmente Metterli in un luogo Specifico Già Tipo La mamma Era nel Congelatore Che non so dove sia Il congelatore Madonna Quanto è grande Però ovviamente Mi sa che li dovremmo mettere Solamente in luoghi specifici Vero? È tipo il congelatore Per esempio Ando sta Ando sta Qui in cucina Forse Madonna Ma che complicato Non me la fate semplice Ok Quindi dovrò trovare appunto Delle specie di bamboline E posso mettere La moneta qui Ok E che mi ha dato Chiave di accensione Chissà a quale veicolo Appartiene Ok È bloccata All'altro lato Dobbiamo trovare qualcosa Da accendere Con questa chiave Capito Però intanto Io direi di andare Nella Nella stanza Dello staff Dato che ho scoperto Che posso spaccare Tutto con Con questo Ok E tra l'altro Possiamo anche mettere Il fusibile qui Però prima voglio andare Nella stanza Dello staff Che è esattamente qui Buongiorno Fatemi entrare Che succede Niente di che Vero Allora Batterie Rapporto sull'incidente Dipartimento dello sheriff Di Milton Haven Descrizione Mercoledì pomeriggio Il dipartimento dello sheriff Ha ricevuto una chiamata Dal signor Anderson Parker Manager Dei grandi magazzini Omamart Dicendo che una donna Sconvolta Urlava E rompeva vari oggetti Nel negozio E' stata inviata Una volante Ok Vittima Virginia Rall Ok Virginia E' stata uccisa Quindi Dai bro Adesso ti rispondo E qui c'è addirittura Una cassaforte Ok Adesso Controllerò anche questa Dimmi tutto Stiamo scoprendo Più robe Sulla lore A quanto pare C'era la tizia Che era pazza E noi la potevamo Aiutare Ma in qualche modo Abbiamo deciso Di non farlo Mi chiedo Cosa abbia Nascondere Un'occhiata più vicino Nello specchio Potrebbe rilevare La sua dipendenza Cerca solo Di farla tua Ok Tra l'altro Sta Sta Cassaforte Vabbè Dovremmo trovare Anche una Combinazione Più avanti Ovviamente Adesso vediamo Di entrare Nella nuova area Grazie al fusibile Tra l'altro Ancora mi serve Una roba Per prendere Un'altra monetina Allora Corsia del cibo O la sdias Tu madre Proprio qui Si doveva mettere Proprio dove Dove dovevo Entrare Tua madre Ucciderò Io ucciderò Tua madre Tua madre Quella brava signora Che ti ha dato la vita Allora La vuoi smettere Eh Eh La vuoi smettere Schifosa Grazie Eh Mi fai andare Nella sezione del cibo Senza rompermi le balle Grazie Sembrava che fosse Responata di nuovo qui To il fusibile Oh Finalmente Nuova area Sbloccata Dammi un punto di salvataggio Per favore Che ne ho Estremamente bisogno Si è anche aperta Questa zona qui No Questa qui Si 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 è aperta anche questa Allora Vediamo intanto Di spaccare il tutto Qui tra l'altro C'è un altro specchio Qui adesso vedremo Di portare Alla tizia Anche qui Ok Alla ovest Manutenzione C'è pure Alla ovest Madonna Etichetta 11,99 Ok Poi andremo a prendere Anche l'ultima Anche l'ultima monetina Intanto Recuperiamo La mia vita E dammi Batteria Qui non si può Ancora aprire Intanto Controlliamo Cosa c'è In giro Per fortuna Questa qui È la sezione Del cibo E perlomeno Mi posso un po' Curare Grazie al cibo Stesso che c'è Qui intorno Adesso Vediamo Come la posso Tirare Qui In qualche modo Ci deve essere Forse la devo Tirare direttamente All'altro lato Bro Bro Sister 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 Vieni 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 E ti smetterò Di guardare Per sempre Oddio Mi so cagato Non me l'aspettavo Così vicina Chiave della Alla ovest Ok Già l'abbiamo presa Tutti mi giudichano Guarda Se tu non mi volessi uccidere Non ti giudicherai Nemmeno Talmente male Anzi Farei amicizia Con te Ecco fatto E nuova area Sbloccata Beh Grandioso Grandioso Dai Stiamo continuando Ad avanzare Controlliamo Cosa c'è Per di qua Enorme Sta zona Madonna C'è la frigorifera Oddio Alquanto inquietante Allora Manichino Se mi stai ascoltando Se barra Sei qui intorno Non farmi cagare In mano Ah Bambola della mamma Sei calmo Sì Sto calmo Me l'aspettavo Che potesse succedere qualcosa No 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 Eh Mi vuole far morire Mi vuole far morire Eh Che si fa Eh Bella domanda Che si fa C'è un Ah qui Qui Per di qua Per di qua Scappa 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 Bro Mi ha provato a uccidermi Lo schifoso Dimmi che ho spento il tutto No Non l'ho spento Eh Che devo fa Ok Grazie Manichini Manichini Viamo Manichini Viamo La madre era nella cella frigorifera Ce l'avevano detto Via 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 Schifoso Ci ha provato ad ammazzarmi Eh Non ci sei riuscito Schifo Fai schifo Non sei nemmeno riuscito a uccidermi Mentre ero chiuso lì dentro Ma i manichini Sono gentilissimi Veramente Qualcosa di bellissimo Eh Poi Allora Qui è da dove sono arrivato Vero Credo che qui io non debba fare più niente Giusto Alla centrale manutenzione Ma quanto è grande sta zona Ci sono pure tre di quei tizi brutti Ciao tizi come va Ah no Forse sono soltanto due Eh Raga Impugnami l'arma Sparagli Spamma Spamma gli attacchi Spamma gli attacchi Spamma gli attacchi Ho detto Ok Sembra che abbia funzionato Grazie Grazie Eh Zona di carico Quanto è grande sta zona No veramente Mi perderò in continuazione Ok Checkpoint sbloccato Quindi so dove sono Più o meno E c'è tutta un'altra zona Magazzino Madonna Enorme sta zona Yo La porta continua a chiudersi Deve essere colpa di una sorta di un malfunzionamento elettrico Ok Qui dentro tra l'altro c'è l'altra bambola Che dovremmo raggiungere da un'altra porta Ah probabilmente aprendo questa qui E noi abbiamo già le chiavi del veicolo Quindi io direi di fare una roba Utilizziamo il veicolo stesso Quindi qui Metti la chiave E fai avanzare questo E poi ci salutiamo Ok Allora devi andare avanti Però Non così Mi va bene anche così E che c'è lì sopra Non lo so Ah forse posso fare una roba Parkuro No no Ancora non posso farlo Comunque in teoria adesso dovrei poter alzare qui E infatti Allora se nessuno mi rompe le scatole Questa qui sembra essere un'area molto tranquilla Che mi ha fatto recuperare anche un bel po' di roba Io direi che ci possiamo salutare Quindi ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto Mettete like Iscrivetevi E noi ci vedremo nel prossimo video Già vedo che c'è qualcosa Quindi Ciao ragazzi Ciao ragazzi